Complice la giornata primaverile, sono stati migliaia i cittadini che hanno passeggiato e socializzato in Vialdomoro, nel centro storico e nella villa comunale del capoluogo, durante l'ultima giornata ecologica dell'anno. Preso d'assalto, il Parco del Matusa, l'opera inaugurata a novembre dall'amministrazione Ottaviani, dove per tutta la giornata si sono riuniti i ragazzi armati di pattini, bici e skateboard. L'ex stadio comunale è stato meta privilegiata anche da parte degli amanti della corsa e di intere famiglie. Lasciare l'auto a casa per qualche ora può costituire probabilmente un sacrificio, ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ma contemporaneamente rappresenta un'opportunità per riscoprire il valore di una passeggiata tra le vie e i parchi urbani. Sono stati 55 i verbali elevati per le violazioni al codice della strada dagli uomini della polizia locale coordinati dal comandante Donato Mauro. Le pattuglie hanno quindi avuto il compito di verificare il rispetto delle ordinanze emanate per il contenimento dei livelli di PM10 e di PM2.5 presenti in atmosfera. Le domeniche ecologiche si inseriscono in un piano più ampio di accorgimenti programmati dall'amministrazione per attenuare il fenomeno delle polveri sottili presenti in atmosfera. Insieme al servizio messo in atto da quest'anno di verifica e controllo sugli impianti termici del territorio comunale. Secondo i criteri fissati il capoluogo infatti è stato suddiviso in tre zone da cui sono stati estratti i seguenti quadranti. Viale America Latina e quartiere Giardino, Corso Lazio e zona di Matteis, San Liberatore e Casilina Sud. Fino al 29 marzo inoltre sarà in vigore il divieto di circolazione a targhe alterne per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato nei giorni di lunedì e venerdì.